Ciao ragazzi, il nostro challenge continua. Adesso continuo dalla bellissima Flag Beach di Fuerteventura. Qualche giorno sono qui e vi faccio viaggiare anche quando io sono in viaggio. Scendiamo in ginocchio per favore e andiamo subito a fare cat cow, così guardo su, allontano e spingo in su le spalle, inarco la schiena e poi tiro su, ancora due, e tiro su, ancora tre, e tiro su. Queste volte sollevo con le braccia, porto il bacino in avanti, guardo in su, scendo giù, vengo in avanti sulle braccia, vengo su, porto le braccia dietro di me, le braccia scendo in avanti, scendo in avanti proprio semplicemente provando a riscaldare spalle, braccia, pancia in avanti, addominali tesi, scendo giù, vado in avanti sulle braccia, torno su, devi essere sotto di risveglio delle spalle, della schiena, delle gambe, perfetto, ancora facciamo l'ultimo, vengo su, tiro indietro, in avanti, mani giù, piego le gambe e sollevo le ginocchia. Ok, a questo punto prendiamo la sinistra, stendiamo indietro, con la gamba tesa e diciamo sollevato dal destro, così, scendo, spingo due, spingo tre, stendo quattro, addominali tesi, sei, sette e otto, cambio la gamba, piego, lo sempre vicino alla terra, stendo otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, piedi scendo e andiamo in down dog. Perché quando abbiamo poco tempo, dobbiamo lavorare un po' più intensamente per portare a casa il nostro allenamento. Andiamo in avanti, in plank, vi chiedo proprio di girare sulle mani destra, stacco la sinistra, piego le gambe, torno indietro, poi stendo le gambe su, vengo centrale, sposto sulla sinistra, piego le gambe, torno indietro, poggio la destra, devil looking dog, vengo in avanti, sposto sulla destra, piego indietro, torno giù con la mano destra, stendo le gambe su, vengo in avanti in plank, sulla mano sinistra, torno indietro, stendo le gambe, mano destra scende e relax. Pieghiamo le gambe, finiamo in avanti camminando o con due balzi, uno, due, vengo in avanti, guardo in avanti, espiro, scendo giù, inspiro, torno su, quando vengo su, mi raccomando, braccio sopra la testa, torniamo in centro, su, scendiamo giù, voglio fare un bel lavoro di braccio e di gambe oggi, ok? Gambe indietro, mani giù, portiamoci in plank e scendiamo, in tre, due, uno, spingo su contro il pavimento, collo del piede su, piego le gambe, torno in giù, sollevo la destra, la porto al petto, la porto in avanti, low lunge, abbasso la sinistra, portale anche in avanti, piccola pulsazione in avanti, scusate, provo di fermare la mia maglietta sotto, la mia cintura del microfono e tre e due, dopodiché veniamo in avanti e stacchiamo la sinistra da terra, braccio su e andiamo a tirare le braccia indietro per la schiena e scendiamo giù e su dove lavorano le gambe e le braccia insieme e due e su e tre e su e quattro e su braccio si aprono, scendo giù a terra, la gamba viene indietro, andremo in chataranga, se non riesci a fare chataranga le gambe possono essere piegate, 3, 2, 1, inspiro in su, mi sollevo le gambe da terra, sono sul collo del piede, torno indietro, in down dog, sollevo la sinistra, la porto al petto, low lunge vuol dire che le gambe viene lunge ma le ginocchio destra e piegate a terra e continuiamo a fare una flessione con le anche in avanti, respiro per farli lavorare, ancora per tre, ancora per due, ancora per uno, stacco la destra, le braccia vanno su, scenderò con le braccia dietro la schiena per fare torsali e le gambe insieme, uno e due e tre e quattro, dammi ancora uno, scendo giù con le braccia, mani strette, gambe indietro, andiamo per tre, per tre, siamo pronti? 3, 2, 1, Porta la palestra con te e da oggi fino al 31 agosto, 15 minuti al giorno saranno assicurati, tonificherai gambe, glutei, abdominali, pettorali, le braccia, sistema brucia grassi, ma non solo, vi aspetto sulla mia palestra nel gp.com, un po' più di una palestra, proprio una stile di vita. Grazie a tutti!